Ciao, sono Valentina e in questo video ti parlerò di quanto il concetto di manifestazione sia all'inizio una vera e propria pratica, ma poi sei proprio tu a diventare la tua manifestazione e questo è quello che poi incide enormemente sulla tua realtà esterna, nel senso che poi la tua manifestazione diventa veramente velocissima. Un elemento che ho fatto emergere in diversi video ha a che fare con quello che spesso pensiamo debba essere solo ed esclusivamente una pratica, ossia appunto quando iniziamo a intraprendere il processo di manifestazione, quello che dico sempre anch'io è necessario praticare, fondamentale praticare, perché? Perché chiaramente dobbiamo riabituare la nostra mente ad un nuovo modo di pensare a noi stessi, non solo poi a noi stessi, ma anche, in questo caso specifico, alla nostra vita sentimentale, al concetto che noi abbiamo di vita sentimentale. Quindi si fanno tecniche, si mettono in atto tecniche, strumenti, attraverso i miei corsi vi do anche proprio un percorso tracciato, perché è fondamentale, come dire, scollinare e andare a sciogliere determinate credenze che magari abbiamo da tutta la vita. Quindi inizialmente è fondamentale fare pratica. Ma la verità è che il vero e proprio raggiungimento, che poi tra l'altro ti dico anche non è una cosa che ci metti una vita, ok? Per quanto ognuno abbia i propri tempi e non esiste un tempo giusto o un tempo sbagliato, ha a che fare proprio con il diventare tu stessa la tua manifestazione. Quindi ad un certo punto non è più una pratica fare qualcosa, quindi non lo so, magari ascoltare delle sessioni audio, fare le affermazioni, mettere in atto alcune tecniche come vivere nel desiderio realizzato e concepirle come tali, ok? Conversazione interiore e via dicendo, visualizzazioni e così. Ad un certo punto non sarà più un intraprendere queste tecniche, ma sarà proprio sulla dimensione dell'essere. Perché? Perché i passaggi fondamentali sono questi, ossia che tutta la parte iniziale di pratica che si fa quando si inizia a manifestare in modo consapevole, ha a che fare con la saturazione della nostra mente, quindi ha come dicevo prima andare a lavorare nella nostra mente, quindi nella nostra realtà interna, sulle credenze che abbiamo fino a saturarla con nuove credenze. Ma poi successivamente è necessario fare il passaggio, quello che a mio parere è più importante, ossia l'incorporare la versione di noi che ha già ora ciò che desidera, perché questo crea la base poi per manifestare e riflettere, soprattutto nella nostra realtà esterna, altri elementi, circostanze, eventi, persone, accadimenti che siano allineati a questo nostro modo di essere. Quindi a un certo punto la manifestazione non è più un metto, come ti dicevo, in atto delle tecniche o una pratica, ma è esattamente ciò che io sono e ciò che io sento di essere. L'elemento del sentire è quello che ci permette di poi facilmente allineare i tre livelli pensiero, sentire, appunto sentimento e credenze. Ok? Quindi ricordati che l'obiettivo è diventare tu stessa la tua manifestazione, perché significa che hai incorporato la versione di te che desideri essere. Ti ringrazio infinitamente per essere stata qui con me, come sempre un grande piacere, ci vediamo nel prossimo video.